C'è del guanciale? C'è del riso sfumicato al ciliegio? Sì, dopo ci mettiamo la crema dell'uovo e poi ci va all'interno dell'uovo col ciliegio. Suplico un po' le poche, questo è caldo rosso! C'è un po' le poche, questo è un po' le poche, questo è un po' le poche. C'è una crema di pecorino, delle scaglie di pecorino e del pepe. Mettiamo del pepe e del mar a pescella. Adesso mi sta asservando e poi dopo le passeremo nella pastella che fa in realtà che si è fritto. C'è un po' le poche, questo è un po' le poche, questo è un po' le poche. C'è un po' le poche, questo è un po' le poche, questo è un po' le poche. C'è un po' le poche. C'è un po' le poche. C'è un po' le poche. Il classico è 14 tipi di Courbet. Ok? 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 C'è un po' le poche. 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 Un po' le poche.